Onorevole Federica, come commenta gli ultimi dati dell'Istat? Sono dati allarmanti che però confermano quanto la Lega dice da un anno e mezzo a questa parte, ovvero che serve un intervento immediato per andare a rilanciare l'economia. Non esiste la possibilità di ridare occupazione a giovani che hanno perso il lavoro se non c'è il rilancio della piccola e media impresa. Attualmente la nostra piccola e media impresa è gravata da una tassazione che non le permette di competere con realtà presenti in altri paesi, quindi è necessario intervenire subito in quella direzione col coraggio perché altrimenti la fine dei nostri territori, delle nostre realtà produttive sarà inevitabile. Per questo noi siamo impegnati col grande progetto della macro-regione che vuol dire proprio anche la possibilità di poter trattenere nei nostri territori le tasse prodotte dai territori stessi e quindi mettere in atto quella fiscalità di vantaggio necessaria per abbassare quella pressione fiscale che sta soffocando le nostre imprese.